Primo appuntamento con una coppia un po' diversa dal solito. Molto diversa. Ho 24 anni. Ma giovane lui. Questo sì, il primo appuntamento a Arbuio. Ma in realtà non mi aspetto niente. Non ho single perché per weekend sono troppo stanco. Ma sì? Lavora tanto? Non ha tempo? Buonasera. Cosa fa nella vita? Eh, cosa fai? Attualmente niente. E allora, perché? Ma è stanco di cosa? Vorrei tatuare. Vorrebbe fare tatuarci. È un abile disegnatore, immagino. No. Ah no? Ma questo è un personaggio veramente molto. Questo stile è un po' moderno. Sì, e tuaggi? Mi tatuaggi sono solo linee, quasi storti, come se fossero degli scarabocchi. Beh, non li fatti male. E taglia, forza Roma. Forza Roma. Non c'entra niente. Non lo so, vabbè. Ti fai a Roma, vabbè. Sono Wendy Alina, ma perché ci sono Wendy? Sì. Sono single perché non ho più speranze. Ma è bene, no? Ma quello non è detto, dai. Vediamo come va. Wendy. Alex, piacere. Vabbè, fin qui tutto bene. Scienze della comunicazione e tecnologie multimediate. Eh beh, oh. Beh, studia. Buono. Bene, no? Impressionato. Oh, forza Roma. Ma cosa c'entra? Non lo so, lui quando è imbarazzato. Quelle idee, oltre che OBI invece. Io non c'ho mai voglia di fare niente. Ah, vabbè. Eh, va bene. Sì, sì, per fare colpo è perfetto. Sì. Però non mi viene mai niente nulla. Niente. Pranne? Quando mi viene, non è il momento. Non è il momento. Ah, certo. Chissà perché poi, non si capisce. Nell'ultima relazione ho fatto un errore grandissimo. Che sarebbe? Che è successo? Quando io l'ho presentato ai miei amici. Sì. Mi hanno fatto, noi ti lasciamo fare. Sì. Però non erano... Non erano... Ma perché dice Forza Roma? Ma ci stava, eh? Non è andata. Lei l'ho conosciuta perché più l'autobus becco una con cui andavo all'elementario. Oh, calcola, c'è sta un'amica mia che sta a ruota con i coreani. Se li piace la ruota, eh? Ci ha fatto, dai, è bomba, fammi la conoscere. Beh, la fine... Che sarei romantica. Se siamo stufati... Beh, così, finita così. Alla fine tutto finisce. Vabbè, ma... Mi stufo con una facilità... Mamma mia, che insuriamo. Non è sana questa... Cioè, non è una cosa sana. No, direi proprio di no. Quella cosa... Che cosa? Che ne so. Non c'è stato così. Quel feeling. È annoiato. Si, da subito. Sì? Quale? Ma spiegati meglio. Eh, cosa che uno è italiano, però uno parla... E' per nord e un altro è per subito. Ma cosa c'entra? Però è sempre Italia, capito? Non ho capito niente. Io direi Forza Roma. Sì, ma con due mondi completamente diversi. Ah, questo intendeva? Forza Roma. Ma perché? Ma vedi, se ci stava. Ma basta, sta Forza Roma. Quando ci sta, ci sta, eh.